Gli end user services di Fujitsu mettono al posto centrale della propria offerta l'utente. La human centric innovation si basa sul concetto appunto di riportare l'utente al centro dei servizi che vengono erogati. I digital workplace services offrono tre tower di servizio all'utente. Uno è il social command center, l'altro è l'intelligent engineer e l'altro è il workplace anywhere. Questi tre pillar dell'offerta digital workplace di Fujitsu mettono l'utente al centro del servizio offerto. Il social command center è il nostro concetto di next generation service desk dove l'utente ha a disposizione un'ampia gamma di canali attraverso i quali comunicare con il desk che non è più il desk tradizionale accessibile solo via telefono ma attraverso il web, attraverso delle piattaforme social, attraverso le più diverse diciamo forme di comunicazione. Questo avviene attraverso anche dei virtual agent, attraverso delle chatbot che rendono l'interazione con l'utente più semplice ed anche il self help molto più semplice. L'intelligent engineer ha invece un aspetto che si basa moltissimo sull'automazione e sulla robotics. Questo significa sostanzialmente che in base all'analisi di dati, grandi a montare di dati legati alla gestione degli incident, dei fault eccetera riusciamo a passare da un supporto diciamo reattivo ad un supporto preventivo, proattivo ed anche predittivo. Questo perché l'analisi dei dati ci mette a disposizione moltissime possibilità di individuare un fault prima che esso addirittura avvenga. Il workplace anywhere è invece il nostro concetto di mobilità diciamo al massimo livello. Il workplace anywhere rende possibile a ciascun utente, a ciascun essere umano di utilizzare e accedere i propri dati, le proprie applicazioni in qualsiasi momento, in qualunque posto e attraverso qualunque device abbia a disposizione in quel momento.